È stata presentata nelle principali città italiane, europee e del mondo, con esposizioni importantissime negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Messico, Brasile e tanta Europa anche. Adesso abbiamo un museo permanente a Venezia, presso la chiesa di San Barnaba, e questo qui ad Arezzo, che è una mostra che è stata presentata anche questa in molti musei importanti. Torna ad Arezzo la mostra delle macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo da Vinci, ospitata alla Galleria d'Arte La Chimera di Arezzo. La lavorazione delle macchine è interamente artigianale, con particolare attenzione alle rifiniture e all'utilizzo dei materiali d'epoca, legno, cotone, ottone, ferro e corda. È composta da una 45 di modelli che si articolano sull'architettura, sulla meccanica, sul volo, sulla guerra, alla difesa delle mura, tecniche d'assalto, carri coperti per attacchi alle mura, catapulte, tutti i temi che poi sono stati purtroppo sviluppati, e Leonardo era contro la guerra, però gli furono commissionati questi disegni e lui ha fatto delle cose straordinarie. Anche lo studio della balestra, che era grande, 17 metri, poteva sterminare con un solo colpo una distesa di persone notevole. Le macchine dedicate alla meccanica sono interattive e possono essere usate dal pubblico. E così il genio universale di Leonardo da Vinci diventa a portata di mano. È una mostra di alto livello culturale, adatta molto anche alle scolaresche e agli studenti che possono apprendere i principi fondamentali degli studi di Leonardo.